Ma la Corona 488 Ferrari GT3 si può utilizzare anche su Formula 1, che è un gioco completamente diverso. Ciao a tutti, friends, dal vostro Super Corris. Eccoci qua, ragazzi, siamo tornati su Formula 1. Questa è la sfida definitiva. Proverò la Corona anche su Forza Motorsport e su Assetto Corsa il Primo, perché comunque sono due giochi importanti da provare, anche perché molti utenti Xbox vogliono sapere come va su Forza Motorsport e chiaramente Assetto Corsa è il gioco più completo dove possiamo provare, al massimo livello di simulatività, vari tipi di auto, varie categorie. Siamo su Formula 1, questa Corona non è specificatamente adatta alla Formula 1, quindi è una Corona GT3. Vediamo se su Formula 1 funziona bene e si guida bene, quello è l'obiettivo. Quindi ci buttiamo in pista e vediamo un po'. Molti mi hanno espresso dei dubbi, corrala, su Formula 1 forse non funziona bene. Ho detto, ragazzi, io ve lo dico dopo che l'ho provato e vediamo un po' come va. Questa Corona ha due modalità, Formula e Gran Turismo. Il problema è che io non so come si fanno a cambiare, adesso lo devo vedere, però non so se bisogna cambiarle per forza per giocare a Formula 1. Ve lo dirò perché se non funziona bene, allora sì. Come al solito, prima di partire col video, vi invito a iscrivervi a tutti i miei canali, lasciate un bel like, seguitemi sui miei social. C'è la mia raccolta fondi per la beneficenza SuperCauris & Friends, potete aiutarmi a raccogliere fondi da donare in beneficenza, link vi parli in descrizione. C'è l'aiuto e il sostegno al canale, abbonamenti e donazioni, potete aiutarmi ad acquistare sempre più oggetti di questo genere, importanti, su cui poi faccio delle recensioni per aiutarvi a guidarvi gli acquisti. Chi vuole eseguire tutti i test della Formula 1 può farlo sul mio canale SuperCauris84. Allora andiamo, giochiamo. Allora, voglio dire, vi fare delle prove a tempo su varie piste per vedere un po' come va. Andiamo a la nostra Ferrarazza. Allora, la prima pista che andiamo a provare è Imol, andiamo a vedere. E eccoci qua, questa funziona, la telecamera. Contate, ragazzi, c'è anche la mia inattività su questo gioco, eh. Di arresto funziona, è da capire com'è. Sono impostati i vari pulsanti, però... Di base, posso già dire che si gioca. Di base, posso già dire che si gioca. E perché, adesso dicevo... dai ragazzi, perfetto, su, parliamoci chiaramente, perfetto, anche qua senza cambiare nulla, quindi senza neanche impostare l'altra modalità, perfetto il volante, si vede anche meglio tutto il cruscotto qua, il segnale del contagiro e tutto, perché è tagliato proprio bene, si guida da Dio, quindi il primo giro l'abbiamo fatto, andiamo a provare un'altra pista, andiamo a provare Austria, dai, visto dove stiamo correndo con Gran Turismo, il volante è perfetto, certo l'SF1000 è un po' più immersiva, con il monitor e tutto, però devo dire che si guida da Dio, perfettamente con questo volante, su questo gioco, e avevo delle riserve, proviamo altre piste, magari poi ci troviamo male. Non guardate gli sbarioni che sto facendo, perché su sto gioco non ci gioco mai, quindi è normale che non sia perfetto e preciso. Guardate la precisione dei movimenti, ma anche la presa è ottima. No, è un po' largo. Ragazzi, è perfetto pure qua. Cioè, secondo me è un volante che si presta a tutti gli utilizzi, si gioca benissimo anche su Formula 1. Ma qua sono uscito a compirla, potevo tranquillamente cambiare la pista. Da qua, ho sbagliato. Si gioca benissimo. Mo' mettiamo un'altra pista ancora. Ma due su due mi sembra proprio di poter dire che è un volante che si presta anche a queste cose. Anche alle Formula 1, cioè... Che non era scontato data la forma del volante. Dai, proviamo Monza. Sto provando piste di layout diversi. Soprattutto di velocità diverse. Ma si gioca perfettamente anche in Formula 1. Quindi se uno vuole un volante che si adatta a tutte le caratteristiche, anche su Formula 1 ci giocate da Dio. Soprattutto di velocità diversi. Soprattutto di velocità. Messa se può la nona. Soprattutto di velocità diversi. Messa per la nona. ragazzi è perfetto ma anche come grandezza come ingombria è perfetto avevo delle riserve proviamo l'ultima in Brasile avevo delle riserve ma posso dire che è perfetto cioè comodissimo ergonomicissimo ti dà tutte le sensazioni è perfetto anche su Formula 1 il cambio è perfetto pure per un gioco velocissimo è meglio di quello dell'SF1000 vediamo qua parta frazzi per un gioco Grazie a tutti Un po' adesso ho strafaccioni miei Allora è perfetto 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 Si guida benissimo Ripeto Solo nell'estetica Non è perfetto perché la corona SF1000 È una corona perfetta anche nell'estetica Ma si vede tutto bene Si guida bene Un'ergonomia eccezionale E mi sono trovato veramente da Dio Quindi vi dico che Per quanto mi riguarda È un volante ottimo È utilizzabilissimo anche su Formula 1 2023 Poi a voi la scelta Giocarci o no Giocare a qualche altra cosa Giocare a un volante Con un volante proprio da Formula 1 Ce ne sono due Solo della Thrustmaster Ma io ve lo consiglio Perché anche qua È un volante che si utilizza benissimo Anche su Formula 1 Quindi Diciamo un volante che si può utilizzare Su mille tipologie di auto diverse Ciao Ciao a voglio